Doctore, lo che un ser umano normal piensa, mi cabeza es quien hace quien soy? Questa è una bella domanda. In realtà, noi, il sé, e questo è stato dimostrato da una scienza enorme, il sé è un'illusione. Tant'è vero che Valery, che state facendo vedere adesso, che ha un corpo distrutto, per cambiare il suo senso del sé, cioè come si considera lui, useremo la realtà virtuale immersiva. Cosa vuol dire? Che cambieremo il suo senso del sé, invece di vedersi distrutto da questa malattia, comincerà a vedersi con un corpo sano. Questo, ovviamente, richiederà circa tre mesi di training con questa tecnologia. E questo è possibile solo perché il senso del sé è plastico, si adatta. Dice che è una, perdone, dice che è una linda pregunta, che in realtà il io è una illusione, che il paciente, per cambiare il paciente, il che si va a fare la operazione, per cambiare il suo senso del io, va a tener che usare un sistema di realtà virtuale immersiva, dove va a stare tre mesi vedendo e sentendo, solamente con los sentidos visuali, come è essere con un nuovo corpo. Ose è un allenamento, per la cabeça, diciamo, di come essere con un nuovo corpo. Ose è un allenamento, per la cabeça, diciamo, di come essere con un corpo.